I presidenti degli Stati Uniti d'America e i membri della Corte Suprema degli USA prestano il loro giuramento su questo libro. Ecco, se invece di giurare su questo libro, cioè sulla Bibbia, giurassero su questi libri, con ogni probabilità, dal mio punto di vista, i loro giuramenti avrebbero esattamente la stessa valenza. Io so bene che tutti noi pensiamo che se giurassero sull'Iliade e sull'Odissea il loro giuramento non avrebbe alcun valore. Appunto.